Ciao amici, come state? Spero tutto bene. Oggi primo video nella nuova casa, ebbene sì, allora, mi sono messo in una posizione particolare perché sono davanti ad una finestra, però guardate qui dietro che bello sfondo che esce fuori, c'è tutta sta roba dietro che si chiude, fa veramente un bellissimo effetto, ma oggi siamo qua in realtà non per vedere appunto il nuovo sfondo di questo video, ma siamo qua per vedere insieme le nuove immagini ufficiali di Glitchmare. Ebbene sì, Keplerians hanno pubblicato alcune immagini nel loro canale Telegram, e le voglio commentare qui con voi. Prima di partire, lasciate conoscenza tantissimi like, iscrivetevi al canale con la camparella attiva, ma adesso direi di partire, cominciamo, andiamo a vedere insieme queste nuove immagini, e questa è l'immagine numero uno che ci fa vedere appunto la faccia di questo V-Line, in più versioni differenti, perché qua abbiamo la versione sia con i pixel, e anche quella senza pixel. Ebbene sì, perché allora, innanzitutto per chi ancora non lo sapesse, il nuovo V-Line, Keplerians, proviene da un videogioco maledetto, e quel videogioco maledetto è tipo una roba pixelata, un videogioco pixel, quindi per questo motivo anche il V-Line ha questi effetti pixelati, particolari, no? Che niente, per questo motivo, no? La vediamo in questo modo. E qui possiamo proprio vedere le varie differenze di texture, questa è la texture base, senza pixel, poi andando avanti qua con i pixel, guardate qua infatti come diventa la texture, sempre più pixelata, pixelosa, e qui possiamo vedere appunto la faccia liscia, senza l'effetto pixel. Allora, a voi come piacerebbe vedere questo nuovo V-Line? Con questa faccia normale, o con la faccia pixelosa? Fatemi sapere qui sotto nei commenti, che sono curiosi di sapere le vostre opinioni, tra l'altro il gioco è ancora in fase di sviluppo, quindi nuovo V-Line. Nell'ultimo teaser veniva mostrato come una creatura pixelata, con le texture da pixel, però non escluso che poi nella versione finale sarà diverso. E quindi, niente, dobbiamo soltanto aspettare poi che esca tutto quanto nuovo materiale, ma nel frattempo possiamo vedere qua anche altre versioni. Allora, innanzitutto una cosa particolare della faccia del nuovo V-Line, che ha appunto questi occhi illuminati di viola. Cioè, guardatelo qua infatti, possiamo vedere questo cerchio attorno all'occhio, questi dettagli colorati comunque si riflettono anche in altre parti del corpo, ma qui di lato possiamo vederlo anche con gli occhi senza l'illuminazione. Quindi, a quanto pare, il V-Line potrà essere sia illuminato e sia non illuminato. Cioè, magari non lo so, in una versione base in cui cammina per i fatti suoi, non è illuminato. Poi, quando ad esempio ci vede e ci vuole rincorrere, magari va in una modalità aggressiva, ci rincorre e quindi si illumina in questo modo. Non so se si è capito bene, no, il concetto. Vabbè, è del tipo, quando è normale, magari con le energie in modalità risparmio energetico, quando ci viene a rincorrere attiva l'energia al massimo e per questo motivo gli occhi si illuminano. E qui possiamo pure vedere la differenza di pixel, qui modalità con pochi pixel. Poi, andando avanti, le texture diventano sempre così, guarda, ma cos'è? No, vabbè, questo può darsi che sia un'icona, è più adatto per essere un'icona, perché se fosse così in un mondo 3D non è che farebbe un bel effetto. Ma andiamo avanti qua perché c'è pure un'altra immagine e qui possiamo vedere finalmente, completamente, il nuovo villain, proprio al 100%. Quindi zampe, corpo e testa. Possiamo vederlo qua in due modalità. La prima si chiama Madeira Rigida in Placas Sobrenergia Digital. Ok, è in spagnolo, scusate, non conosco lo spagnolo, però qui parla di Energia Digital. Energia digitale, immagino che sia. E qui possiamo vederlo appunto che tipo la modalità... Ah no, però gli occhi qua sono illuminati. Ma il resto del corpo non ha degli effetti di luce. Però vediamo meglio com'è fatto. Finalmente ce l'abbiamo qui davanti, no? Il corpo completo del nuovo villain. La testa già la conoscevamo. Qualcosa si era già intravisto anche nell'ultimo teaser. Anche se si è visto molto di sfuggite soltanto da parte frontale. Ma qui posso vedere proprio meglio i vari dettagli. Sembra tipo una cosa... Un mostro. Un misto fra un orso e una statua di roccia. Cioè veramente sembra fatto di roccia. Oppure di legno. Non lo so. Forse è più adatto il legno perché ho la roccia. Non ho idea, scusate. Per il momento solo teorie. Purtroppo non è che abbiamo tante informazioni. Però il mostro sembra molto cattivo. Oppure qua degli artigli pronti per graffiarci. I Keplerians hanno anche ribadito che questo sarà un gioco molto più horror rispetto a quello che abbiamo visto in passato. Quindi comunque ci saranno tanti segreti. Ah, qui possiamo vedere altre icone. Ad esempio qua la faccia. Davanti. Di lato. E qua di sopra. E poi qua art, real, creepy, design, menos, coerente, es, totem. Ok. Ok. Poi andando sempre di qua. Possiamo vedere appunto l'altra modalità. Quella presumo con... Ah no. Qui con articolazioni. Quindi qua possiamo proprio vedere come funzionano le articolazioni. Quali saranno i movimenti del villain. Innanzitutto la testa potrà ruotarsi. Vediamo proprio qua le frecce che vanno a vedere che si ruota. Anche qui. Quindi la parte della schiena dietro si potrà sollevare. Abbiamo pure visto nel teaser. Le braccia avranno vari movimenti. Ad esempio ci saranno i movimenti quelli rotatori in questo modo. E poi quelli che vabbè del braccio che si alzano così. Quindi lui potrà ruotare gli arti. Una roba così. Ora io non è che posso fare sto movimento perché noi umani non lo sappiamo fare. Però a conto pare lui lo potrà fare. Poi vediamo sempre qua cos'altro c'è. Ah vabbè le gambe che si possono sollevare. E anche quelle si possono ruotare. Insomma tante belle cose da vedere. Come c'è cosa abbiamo. Arte, sintesis, limitado, design, inquirente lore, marionetta. Ok. Vabbè qualcosina comunque penso che si capisca. Tipo incoerente lore. Significa lore incoerente. Ma non è che ha un significato per noi italiani. E poi marionetta. Presumo la marionetta. O comunque il modello 3D che abbiamo qui davanti. Ma andiamo sempre avanti qua perché c'è un'altra immagine. E guardate questa è molto bella. Devo dire che questa immagine mi è piaciuta un sacco. Glitchmer. Posso proprio vedere qua il mostro che esce fuori da questo portale. E quindi questo vi fa capire che i portali saranno molto importanti all'interno di questo gioco. Forse saranno appunto i collegamenti che ci permetteranno di entrare all'interno del mondo del videogioco maledetto. Quindi faremo tipo dei passaggi. Alcune parti saranno ambientati dentro il videogioco maledetto. E altre parti saranno ambientati nel mondo reale. Che Playlands qualche giorno fa hanno partecipato ad un evento a Barcellona. E chi era lì aveva la possibilità di giocare alla demo ufficiale di questo gioco. Ecco ci sono state delle fotografie di alcuni di questi giocatori. Alcuni giocatori giocavano alla demo ufficiale. E proprio lì potevamo vedere che parte di questo gioco era ambientato dentro il mondo pixelato 2D. Ed era visto dall'alto. Un po' come i vecchi giochi di Pokémon nelle prime stagioni, prime edizioni. O i primi giochi di Zelda, quelli tutti quanti in pixel 2D. Quindi presumo che quando noi saremo all'interno del videogioco maledetto saremo all'interno di un mondo pixel 2D dove noi guideremo il personaggio visto dall'alto. Quando poi torneremo nel mondo reale saremo in un mondo 3D. Come abbiamo sempre visto anche negli altri giochi che Playlands. E per accedere da un mondo all'altro dovremmo attraversare i portali. Abbiamo visto il primo portale ufficialmente all'interno del finale segreto di Ice Cream 8. Il finale che poi è stato rimosso e che Playlands non ricaricato come video sul loro canale YouTube. Dove appunto vediamo quell'Arcade Machine che si glitch e compare un portale al mezzo. E poi abbiamo pure visto il portale nel mondo reale nell'ultimo teaser che è stato pubblicato. Quello dove appunto vediamo il portale in alto e poi compare e spawna dal nulla. Il cosetto qua. Che non so come chiamarlo. Quindi per il momento lo chiamiamo il nuovo mostro dei Playlands. Vabbè no dobbiamo trovargli un nome. Altrimenti qua non è che posso stare a chiamarlo in ogni video il nuovo mostro dei Playlands. Perché poi diventa troppo lungo. Vabbè allora chiedo a voi. Come lo chiamereste? Se voi vi trovate davanti sto coso e dovete dargli un nome. Che nome gli avreste dato? Sono curioso di sapere anche le vostre opinioni. Quindi che dire altro da vedere per il momento non c'è perché le immagini sono finite. Fatemi sapere questo sotto i commenti cosa. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto mi raccomando spoliciate, condividete, iscrivetevi al canale con la campanella attiva. Noi ci vediamo i prossimi video. Come sempre vi auguro buona giornata, buone serate e buona natte. Ciao a tutti e buon panino a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Grazie a tutti.